bella pezzi dei cuore bentornati sul canale eccoci qui ciao a tutti finalmente una promessa e debito vi portiamo l'apertura ufficialmente l'apertura del primo contest della nuova raccolta adrenalin xl calciatori 2020 21 giusto sei contento io sì assolutamente anche perché tocca premiarli questi ragazzi che ci seguono questi pezzi di cuore no e vi spiego subito le regole ma prima vedi vedi meno male che hai guardato qui perché ho il foglietto ragazzi non lo potete vedere ma il foglietto perché devo salutare devo salutare flavio d'angeli 09 pasquale morra e mauro russo un abbraccio forte che stavo dicendo spieghiamo le regole allora innanzitutto per partecipare seguite bene non schippate perché poi non c'è capito un'acca tocca mettere mi piace al video commentare il video con hashtag partecipo così che non so se tuttora funziona il commento diventa di un azzurrino bello carino e infine per poter partecipare unico vincitore innanzitutto per poter per potervi iscrivere così tre giorni di tempo quindi oggi a 25 venerdì 25 settembre 2020 e il 28 28 a sera alle 23 59 l'ultimo e alle 23 e 50 minuti e potete potete iscrivervi dopodiché chiudo tutto e chi si iscriverà di conseguenza dopo non potrà partecipare eccetera eccetera basta così penso che sia abbastanza chiaro allora fa vedere il premio e se ditemi cosa ne pensate nei commenti non fate finta di non vedere e non sentire ora vi faccio vedere le carte questo è il premio unico premio ripeto per unico vincitore vai mi sa che troppo vicino per combo vabbè dai così si vedono almeno sono questi ragazzi miei ero ho intenzionato a mettere in premio soltanto la tempesta azzurra per chi ha seguito i video precedenti però ci ho ripensato e voglio premiarvi in qualche maniera rega veramente ditemi voi vai vai parolo questi sono tutti gli idoli cioè tu cosa faresti se dovessi vedere un video così impazziresti? parteciperesti anzi? ma chi se ne frega ok mentre tu scorri le carte voglio innanzitutto tranquillizzare coloro i quali pensano che sia pagamento fallete bene non si paga nulla l'unico che paga qui è il sottoscritto quando dovrà spedire il premio a destinazione al vincitore ok che altro dire ovviamente il vincitore perché sarà estrazione poi lo vedrete il giorno in cui porterò il vincitore chiede sarò io a contattare il vincitore e non so se ancora vale qua i messaggi ecco la tempesta azzurra come dicevamo non so se ancora vale qui messaggi se sono valide lo so ora spero di sì e appunto dove chiederò i vostri dati personali indirizzo nome e cognome sul citofono il capparo la città eccetera eccetera la provincia basta così penso di aver detto tutto anche perché non utile farla troppo lunga queste sono le carte molto bene queste sono le carte il premio ecco che si porterà a casa il vincitore spero che vi piaccia come primo contest tutte le rarità esatto bravo vedi una cosa che dovevamo dire hanno tranne le tappe player va bene detto ciò ragazzi io vi ringrazio per aver guardato il video per qualsiasi domanda commentate vi darò risposta fate i bravi sempre rega a testa alta soprattutto al prossimo video ciao a tutti bella rega